Dal mese di settembre, in Germania, i cittadini potranno effettuare la terza dose di vaccino anti-Covid-19, soprattutto. Il vaccino sarà destinato alle fasce di anziani e le categorie fragili. Ad annunciarlo il ministro della Salute tedesco, citando le preoccupazioni su una ridotta o rapidamente indebolita risposta immunitaria, la terza dose di vaccino o Pfizer o Moderna sarà offerta anche a chi ha già ricevuto due dosi di AstraZeneca o la singola di Johnson. Intanto, nelle prossime settimane, la Gran Bretagna deciderà di somministrare un'altra dose per gli ultracinquantenni e i soggetti fragili. Diversa, invece, è la situazione in Italia. Per quanto riguarda la terza dose, ancora l'EMA, l'Agenzia Europea per i Medicinali, non si è pronunciata. Diversa, si parla anche di un terzo richiamo di vaccino. Ecco, lei che cosa ci può dire su questo? Insomma, ci può informare, magari, non so per quanto riguarda appunto la somministrazione di una terza dose che eventualmente avverrà per chi si è vaccinato oggi, tra nove mesi? Sì. Allora, non è ancora stata ben definita la situazione per l'effettuazione della terza dose. Se ne sta parlando, ci sono scuole di pensiero diverse e quindi siamo in attesa di ulteriori approvazioni dell'EMA e di valutazione con linee guida e procedure.